benvenuti a tutti io sono gabriele caselli quello che state ascoltando è il podcast di state of mind il web journal italiano di psicologia che potete seguire e leggere su www.stateofmind.it questo è il quinto episodio della nostra serie di trasmissioni tratte dal manuale di caselli ruggero e sassaroli rimuginio teoria e terapia del pensiero ripetitivo edito da raffaello cortina editore bentornati questa è la nostra quinta e ultima trasmissione che chiude la rassegna dedicata al rimuginio e volevo aprirla ringraziando tutti coloro che hanno scelto di seguirci e di dedicare un po di tempo ad ascoltare le mie parole nella speranza che possa avervi dato qualche spunto di riflessione interessante qualche informazione utile anche dal punto di vista concreto per riconoscere e maneggiare il proprio rimuginio negli episodi precedenti abbiamo descritto questo costrutto questo processo mentale le sue varie facce e forme abbiamo esplorato come mai per alcune persone diventa qualcosa di incontrollabile o quali sono le ragioni o le motivazioni che spingono le persone a continuare a rimuginare nonostante i costi che determina oggi vorrei ampliare leggermente lo sguardo su un tema che è strettamente intrecciato al rimuginio e che gioco forza all'influenza ma che ha uno spettro d'azione molto più ampio del rimuginio stesso parlo degli scopi di regolazione degli stati interni un nome tecnico non particolarmente immediato ma che in buona sostanza si riferisce alla tendenza di alcune persone a considerare le emozioni e i pensieri negativi come esse stessi fonte di minaccia e a mantenere uno scopo implicito orientato a sopprimere i nostri stati interni negativi e ad acquisire una forma di controllo assoluto su ciò che proviene dal nostro corpo e dalla nostra mente essendo che uno scopo di questo tipo risulta nei fatti irrealistico irraggiungibile è chiaro che il tentativo di governo completo di ciò che ci succede dentro non può che portarci a vivere esperire una costante stato o un frequente stato nella migliore delle ipotesi un frequente stato di frustrazione e come sappiamo quando ci sentiamo frustrati o in una condizione di disagio siamo maggiormente tempestati da quegli stati interni e da quei pensieri negativi che diventano gli elementi di attivazione del rimuginio in questo senso si aggancia al tema del rimuginio inoltre il fatto stesso di considerare problematici i nostri stati interni e le nostre emozioni negative come qualcosa che deve essere soppresso nel minor tempo possibile non fa altro che facilitare nella nostra coscienza l'emersione di pensieri negativi e delle sensazioni di disagio perché è questo perché è chiaro che naturalmente sono maggiormente spinto a monitorare o a rilevare la presenza di elementi che sono considerati implicitamente importanti per me se io penso che uno stato di disagio sia in qualche modo pericoloso diventa più facile che lo noti immaginatevi un attimo di porre in questo momento tutta la vostra attenzione alle sensazioni che provengono dalle vostre mani noterete che se vi concentrate la quantità di sensazioni che siete in grado di percepire aumenta e si intensifica e sono sensazioni che da un certo punto di vista probabilmente stavano lì nelle vostre mani già da prima prima che vi ci orientaste in qualche modo le sentivate già ma non le stavate ascoltando con attenzione ecco che se la mia priorità assoluta è che il mio organismo non presenti segnali di minaccia in termini di ansia attivazione battito cardiaco calore o anche solo un senso di confusione mentale o pensieri negativi ecco che implicitamente li rendo in qualche misura più frequenti in che modo si innesca con il rimuginio abbiamo detto che il rimuginio di fatto è una strategia che le persone mettono in atto per cercare di risolvere anticipare comprendere ciò che considerano un problema o un disagio e quindi nel momento in cui io vivo con lo scopo prioritario di non provare mai alcun disagio di avere controllo assoluto sui miei stati interni di non vivere emozioni o pensieri negativi non faccio altro che facilitare l'emersione di questi e facilitare tutti quegli stimoli che poi il rimuginio cerca di comprendere analizzare risolvere e inoltre essendo questo scopo in qualche modo irrealistico come direbbe di giuseppe sono obiettivi da uomo morto quelli di non provare alcune emozioni cioè obiettivi che un uomo morto può raggiungere molto più facilmente di un uomo vivo ed essendo sostanzialmente irrealistici e realizzabili da uomo vivo il fatto stesso che attivino il processo di rimuginio e che questo processo di rimuginio non si possa interrompere perché il segnale di stop sostanzialmente irrealizzabile mette le persone in una sorta di circuito di gatto che si morde la code in cui per cercare di non provare più emozioni negative utilizzo il rimuginio che però non solo fomenta le emozioni negative gli stati di stress ma di fatto non può raggiungere l'obiettivo che lo interromperebbe perché l'obiettivo che lo interromperebbe non è di fatto umanamente realizzabile quindi la ricerca di eliminare i propri stati interni non solo li rende più rilevanti quando sono negativi ma anche rischia di porci in una condizione di costante frustrazione facciamo alcuni esempi concreti per calarlo in quelle che possono essere le realtà quotidiane devo sempre sentirmi felice o carico di energie ho lo scopo di essere sempre soddisfatto di sentirmi sempre euforico va da sé che ogni forma di quiete diventa problematica ogni stato negativo diventa problematico qualcosa da risolvere immediatamente da sopprimere nel minor tempo possibile c'è un'idea di normalità come felicità la maggior parte della vita è consumata a cercare di raggiungere uno stato di felicità che a quel punto diverrebbe bene o male costante la ricerca della felicità mentre la felicità in senso stretto è una condizione anormale della mente come lo è un po' anche lo stato di profonda depressione o lo stato di attivazione ansiosa sono condizioni anormali in un processo di costante fluttuazione in positivo e in negativo tutto sommato moderata è chiaro che cercare di mantenere o pensare di stare bene se solo se si è pienamente felici ci mette nella condizione di percepire in modo più significativo tutto ciò che si discosta da una assoluta felicità e considerando che la normale è una moderata fluttuazione siamo ovviamente sovraesposti a condizioni di in qualche modo discrepanza rispetto a uno scopo per noi rilevante e quindi mantenere questo scopo nella mente ci facilita non solo la ricerca di una condizione che di fatto è anormale ma anche il mantenimento di uno stato presente di più frequente e facile insoddisfazione e di rimuginio su questa insoddisfazione anche l'idea di essere sempre carichi di energie ci fa percepire spesso anche dei problemi dove non ci sono o alimenta questi stessi problemi alla mattina mi alzo e mi sento stanco non ho voglia di alzarmi non sono carico di energie e comincio a rimuginare sul perché mi sento in questo modo perché non ho più le energie perché non sono come dovrei essere cioè carico come una molla eccitato per affrontare la giornata e più io mi focalizzo mi fisso su queste sensazioni più tendo a farle perdurare nella mia giornata la soluzione migliore se quello che ci siamo detti fino ad oggi rispetto alla ruminazione è vero o in qualche modo affidabile sarebbe dire vabbè oggi è una giornata in cui mi alzo col piede storto che potrebbe essere anche il segno di un periodo in cui non sono particolarmente carico di energie magari è importante considerare in senso più generale di avere un po più di occasioni di riposo oppure cercare di svolgere delle attività che siano più energizzanti ma in questo momento vale la pena alzarsi perché alzarsi perché nei momenti in cui io mi attivo e scaldo un po' i miei muscoli di solito nel corso della giornata a livello di energetico sale questa è un'altra un'altra poi credenza che non c'entra molto sul tema del rimuginio ma che vale la pena citare non è necessariamente detto che il riposo aumenta il grado di energie che noi proviamo spesso è esattamente il contrario il livello di energia aumenta nei momenti in cui noi ci attiviamo esempio numero due l'ansia è pericolosa per stare bene io non devo provare ansia se provo ansia o se vivo in condizioni di incertezza io sono in pericolo nei momenti in cui provo mi muovo in condizioni di incertezza che possono essere generate da un dubbio che provo delle sensazioni fisiche di disagio allora la mia unica priorità di quel momento è preoccuparmene perché ovviamente se l'ansia è pericolosa e se il mio scopo è vivere in una condizione di eterna quiete che se vogliamo va di pari passo con quello che dicevamo prima non parliamo di eterna felicità ma parliamo di eterna quiete cioè la normalità è non essere disturbati la meta è non sentirsi disturbati allora i momenti in cui essendo un essere umano capita di provare delle minacce ed essendo una persona che è particolarmente sensibile alle minacce lo è perché ha come scopo prioritario quello di mantenere la quiete è chiaro che è più facile che percepisca degli stati minacciosi provenienti da dubbi che riguardano il mondo esterno provenienti da sensazioni di disagio che riguardano il mondo interno ed ecco se che se queste sensazioni vengono percepite come particolarmente pericolose possono dare il là o stimolare una forma di rimuginio di preoccupazione costante rispetto ad esse ci sono molti studi che mostrano come l'esperienza di panico per esempio può essere spesso associata a una malinterpretazione degli segnali di ansia naturali come qualcosa di catastrofico problematico come il segnale di una catastrofe imminente per esempio l'ansia è pericolosa può farmi perdere il controllo oppure alcuni segnali sintomi fisici associati all'ansia come la tachicardia vengono confusi come il segnale per esempio di un infarto imminente e quindi spaventano attivano la preoccupazione per cui io posso non essere preoccupato cioè stare senza rimuginio solo in condizioni in cui non prova alcun sintomo fisiologico e quindi corporeo associato all'ansia cosa peraltro molto difficile nel computo della vita di un essere umano se non impossibile il che mi rende più vulnerabile per esempio una declinazione simile a quella del panico di questo tipo di scopo è legato all'ansia sociale l'ansia sociale è quello stato di disagio che alcune persone provano provocano se esposte in contesti sociali connessa alla percezione che la propria ansia si manifesterà in contesti sociali il proprio imbarazzo la propria vergogna ci porterà a dare delle prestazioni sociali ad apparire inadeguati e che quindi per potersi liberamente serenamente vivere delle relazioni dei contesti sociali sia necessario in qualche modo trovare la modalità per non provare alcuno stato d'ansia alcuno stato d'agitazione ovviamente lo stesso discorso un po più focalizzato rispetto al panico ma è chiaro che in condizioni sociali il livello di attenzione che le persone con questo scopo prestano ai propri segnali di ansia è molto più elevato questo fa sì che la ansia o tutti i segnali corporei associati e l'ansia vengano percepiti in modo più intenso che facilita l'idea di essere in una condizione di minaccia e facilita l'attivazione di un processo di preoccupazione ma essendo che in condizioni sociali un po tutti noi soprattutto se sono sconosciute abbiamo delle reazioni fisiologiche di imbarazzo di ansia di agitazione è chiaro che diventa problematico nel momento in cui ho l'aspettativo lo scopo di potermi esporre in condizioni senza provare alcunché in termini di attivazione fisiologica terzo esempio un terzo scopo irrealistico è nella mia mente non ci devono essere dubbi o pensieri disturbanti è chiaro che mantenere uno scopo di questo tipo attivo nella propria mente ci spinge a considerare tutti i pensieri anziché essere impulsi anziché come impulsi neurochimici come una possibile minaccia e quando parliamo di pensieri disturbanti ci riferiamo sia a dubbi di cose che potrebbero capitare in condizioni di incertezza sia rispetto a pensieri che moralmente possono essere considerati come inaccettabili o sostanzialmente al di fuori del nostro contesto morale per esempio pensieri che hanno a che fare con la blasfemia o pensieri di natura sessuale o pensieri che sono in qualche misura connessi al danno per noi stessi o per gli altri ecco impulsi di questo tipo anche essi sono sostanzialmente un'esperienza normale ci sono molti studi a partire dagli anni 80 che hanno mostrato come pensieri negativi di questa natura siano tutto sommato frequenti anche in persone che non presentano alcun disturbo psicologico ma per una ristretta gamma di persone avere pensieri di questa natura risulta essere particolarmente disturbante e problematico perché segnale che uno scopo prioritario per loro è fondamentalmente danneggiato c'è l'idea che una mente che funziona in modo normale non dovrebbe avere mai dei pensieri di questo tipo questo fomenta una propensione a due processi che risultano fomentatori di vulnerabilità alla sofferenza psicologica il primo la tendenza naturale a monitorare l'occorrenza di questi pensieri ed è chiaro che in qualche misura se io monitoro la mia mente alla ricerca di un pensiero disturbante o anche solo per osservare se un pensiero disturbante in qualche modo non è presente tendo a chiamarlo a facilitarne l'immersione in coscienza la seconda strategia il secondo problema è che posso arrivare a preoccuparmi molto dei miei pensieri cercando in qualche modo di sopprimeri neutralizzarli scacciarli dalla mia mente attraverso anche il rimuginio con il risultato finale in realtà di renderli più frequenti di quanto io non desideri il tema dell'effetto paradosso della soppressione dei pensieri è particolarmente descritto bene dal famoso esempio dell'orso bianco più cerco di non pensare a un orso bianco più l'immagine dell'orso bianco emergerà nella mia mente perché avviene questo semplicemente perché per essere certo di non avere un pensiero in mente io devo scannerizzare la mia mente per valutare osservare se questo pensiero non è emerso ma scannerizzando la mia mente non faccio altro che andare in cerca di quel pensiero facilitando nell'immersione tutti questi esempi ci dicono una cosa importante che in qualche misura dobbiamo convivere con una mente e una normalità che è caratterizzata da pensieri negativi e sensazioni di disagio e che mantenere uno scopo orientato a non avere mai pensieri disturbanti o mantenere una condizione interna di costante quiete o costante felicità è esso stesso un elemento di vulnerabilità per lo sviluppo della frustrazione o di stati di disagio psicologico è chiaro che questo non significa che non abbiamo controllo sulle nostre reazioni in fondo è anche vero che tutto ciò che accade dentro di noi non incide sulla nostra capacità di scegliere liberamente come reagirvi e di muoverci nel mondo considerando queste informazioni senza esserne schiavi anzi è in qualche misura proprio il desiderio e lo scopo di volerle sopprimere o eliminarle che ci rende schiavi di queste sensazioni perché fa sì che il nostro agire nel mondo sia in qualche modo dipendente o sottomesso a una necessità di ordine superiore che è quella di sopprimere certi stati di disagio a quel punto questa è l'unica priorità che guida le nostre scelte senza rendercene conto facciamo dipendere le nostre scelte da questa unica priorità e questo fa sì che ogni altro scopo che potrebbe paradossalmente facilitare le immersioni di sensazioni piacevoli viene in qualche modo posto in secondo piano quali sono le alternative che abbiamo in mano? Beh innanzitutto cominciare a considerare le emozioni e i pensieri anche quando sono negativi per ciò che sono vale a dire informazioni che ci dicono qualcosa di noi ci dicono qualcosa del nostro temperamento o della nostra natura di esseri umani o dei condizionamenti della nostra storia o una miscela di tutti e tre questi aspetti in fondo il fatto di avere delle reazioni automatiche in termini di emozioni e di pensieri è qualcosa di estremamente razionale in termini evolutivi cosa c'è di più razionale che cercare di leggere il mondo e la nostra esperienza o anche il nostro futuro sulla base di quello che è il nostro temperamento e ciò che la linea evolutiva ha determinato nei cambiamenti della nostra specie oppure in base a ciò che la nostra storia in qualche misura ci ha insegnato certo noi abbiamo la capacità di andare oltre ciò che la nostra storia ci ha insegnato e questa capacità di andare oltre ci è concessa dal fatto che noi possiamo considerare questi pensieri e queste sensazioni non tanto come dati di fatto ma come informazioni da considerare nel computo delle opzioni che abbiamo a disposizione non sono le uniche non ne siamo schiavi ma possiamo considerarle come un elemento informativo volendo fare una sintesi uno dei modi che noi abbiamo per ridurre il rimuginio la necessità di concentrarci in modo stressante costoso per la nostra mente sui problemi che incontriamo nella nostra vita e quello di sviluppare alimentare una certa disponibilità a navigare nel mare mosso delle emozioni delle sensazioni corporee dei pensieri negativi considerandoli non come pericolosi cercando di mettere in discussione lo scopo di volerli assolutamente eliminare o la pretesa di vivere in un contesto di totale felicità o di soddisfazione dei propri bisogni anche interpersonali e considerare le emozioni e le sensazioni di disagio non come un pericolo ma come una informazione spiacevole ma che può essere considerata nel computo del processo di presa di decisione insomma il fatto di essere degli esseri umani di avere un certo temperamento di avere una certa storia che ci ha condizionato influenza il modo in cui la nostra mente ci propone dei contenuti piacevoli o anche spiacevoli la nostra libertà risiede anche forse nella possibilità di considerare quanto peso dare a queste informazioni quando seguirle quando decidere di muoverci nel mondo indipendentemente da esse e qui su questa riflessione che può spingerci in una direzione più filosofica e meno psicologica e può aprire le porte di una discussione infinita attorno al tema del libero arbitrio che mi piace chiudere questa rassegna in modo tale che possa salutarvi con un ulteriore stimolo per le vostre riflessioni e per la ricerca se non della costante felicità almeno del preferibile gradiente di libertà nella organizzazione e nel movimento dei vostri passi nella vita che vi attende grazie per essere stati con me ci saranno forse delle altre occasioni e delle nuove rassegne quindi sarà possibile che ci risentiamo per ora però è tutto dal podcast di state of mind grazie 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 grazie